È la quinta puntata e ancora davanti alle telecamere c'è Groviglio Ma io so che questo Groviglio è magico Perché la coppia si è riformata I miei amici sono ritornati Francesco Paolo Antoni Gabriele Cirilli Oh questo, venite! Grazie a tutti, grazie a tutti Ciao Buonasera, buonasera di essere ancora una volta qui con te Grazie Venite qua, fatevi vedere Grazie ragazzi Buonasera Ciao Ritoglia Sono felicissimo di averli di nuovo qui con me Anche io sono contento di essere venuto qui a sostenere questi talenti stradali Veramente sono fantastici Io ho già assistito all'esibizione di qualche puntata fa E' veramente uno più bravo dell'altro Per cui è anche abbastanza difficile sceglierlo Andate! Ciao! Andate signori! Conosciamo quindi subito la...